tra me e la medicina non è stato un colpo di fulmine ho imparato col tempo a conoscerla e apprezzarla. Mio padre era medico e tutta la mia infanzia e la mia adolescenza sono state pervase giornalmente da un universo ricco di fonendoscopi, ricettari, camici e dialoghi spesso incomprensibili in un medichese per me totalmente sconosciuto. Trovavo molto affascinante il contatto che riusciva a stabilire con i suoi pazienti, teso ad aiutare le persone che aveva davanti. Questo mi ha spinto a intraprendere la mia strada. Ho sviluppato una grande curiosità per l'osteoporosi, una patologia sociale rilevante che in tutti questi anni ha nutrito la mia passione scientifica divenendo la mia materia prediletta nella vita lavorativa quotidiana. Cerco costantemente di individuare la migliore strada per fare prevenzione, condividere la mia esperienza affinché le persone possano avere gli strumenti per conoscersi meglio e aggiungere vita agli anni e non solo anni alla loro vita. La medicina non è una scienza esatta, non è solo cura. La medicina non è una scienza che non è solo professione, è contatto e condivisione. Essere medico significa continuare ad essere il se stesso bambino, curioso e desideroso di conoscere il mondo che ci circonda. di conoscere il mondo che ci circonda.